ciao amici vi piacciono le patate avete mai fatto ricette particolari con le patate immagino di sì visto che questo cibo povero ma gustosissimo è tra i più versatili in cucina e non solo le patate si prestano anche a utilizzi più insoliti che non c'entrano con i fornelli ma questo non è un canale sull'alimentazione sì ma anche uno spazio dove parlare di salute benessere e stile di vita naturale trendy e sano scoprire il lato nascosto degli alimenti che più usiamo in cucina può migliorare la qualità della vita vediamo allora insieme sei modi insoliti di usare le patate se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 per eliminare lo sporco le patate sono un ottimo smacchiante possono rimuovere lo sporco da mani e stoviglie basta strofinarle un po sulla parte incriminata per far sparire la macchia 2 per pulire i vetri le patate possono essere un alleato per pulire i vetri senza lasciare aloni bisogna prendere una patata cruda e strofinarla sugli specchi o vetri di casa sembra incredibile ma i risultati saranno subito visibili 3 per lucidare l'argenteria le patate sono un aiuto anche per quanto riguarda l'argenteria come strofinare l'argento con l'acqua di cottura delle patate lo farà tornare agli splendori di un tempo 4 per riscaldarsi avete mai notato che le patate cotte in acqua bollente ci mettono un po a raffreddarsi come no non c'è modo di sbucciarle senza scottarsi le mani beh possiamo avvolgere questa loro proprietà scottante a nostro favore infatti le patate possono essere usate come cibo riscaldante in inverno anche tra un piatto e l'altro 5 antiverruche il succo delle patate è un rimedio naturale contro le verruche per farle sparire bisogna sfregare delle fettine di patate sulla verrucca più volte al giorno e lasciarle agire per un po 6 come integratore alimentare le patate sono anti infiammatorie molto ricche di potassio e buona fonte di magnesio sono perciò un contorno e anche un integratore alimentare benefico per la salute avete visto amici come usare le patate in modo insolito senza ricorrere sempre ai fornelli per vedere tanti altri video sulla sostenibilità è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali grazie a tutti grazie a tutti